Qual è la tendinite ai piedi? La tendinite del piede è un'infiammazione dei tendini del piede. È accompagnato da dolore al tendine tibiale posteriore ed è comune negli atleti e in quelli che subiscono grandi quantità di sforzo fisico. In generale, il dolore ricorrente è causato da una lesione o da un uso eccessivo del piede. Alcune attività possono portare a tendinite ai piedi, tra cui stare in piedi continuamente per un lungo periodo di tempo, svolgere attività fisiche su terreni accidentati e negoziare colline ripide. Il più delle volte, la tendinite del piede inizia con la paratendonite e un dolore gonfiore della copertura esterna del tendine. Il tendine si deteriora, facendolo addensare. Inizia quindi a indebolirsi e alla fine può provocare una rottura totale del tendine. Una persona con una tendinite ai piedi avrà una sensazione di calore sul piede colpito. Il dolore si percepirà anche sul collo del piede, in particolare lungo il percorso del tendine. Allo stesso modo, un dolore lancinante si sentirà sull'arco del piede colpito quando si è in piedi sulle dita dei piedi. Una persona può curare la tendinite del piede da sola. Dovrebbe iniziare interrompendo l'attività causando o esacerbando le tendinite contemporaneamente. Dovrebbe quindi assumere la RIC e metodo di trattamento. Riso sta per riposo, ghiaccio, compressione e levazione. Qualcuno con la tendinite del piede ha bisogno di appoggiare il piede, camminando il meno possibile e possibilmente usando le stampelle per mantenere il peso sul piede colpito. Una sacca di ghiaccio deve essere applicata nell'area interessata per i successivi tre giorni ad intervalli di 2-3 ore per almeno 20 minuti. Durante la compressione, una persona deve avvolgere la sua caviglia partendo dalla parte inferiore delle dita dei piedi fino al ginocchio usando una benda elastica. Quando è sdraiata o seduta, deve sollevare il piede colpito sopra il livello del cuore. Una persona può assumere farmaci anti-infiammatori come parte del trattamento del tendine quando necessario. Il farmaco deve essere mantenuto religiosamente fino a quando i sintomi della tendinite del piede non sono più disponibili. Se i farmaci non funzionano e i sintomi diventano gravi, è necessario consultare un medico per una diagnosi completa. Una persona può anche essere sottoposta a iniezioni di cortisone o può anche essere sottoposta ad intervento chirurgico. Prevenire la tendinite ai piedi è molto più facile che curarla. Stare in buone condizioni fisiche aiuterà una persona a stare lontano da una cattiva condizione del tendine. L'esercizio regolare aiuta anche a mantenere i tendini in perfetta forma.